Consiglio principale per battere questo primo boss è cercare di stare sul lato di tutto sinistro e sfruttare i tetti e il rampino per attaccarlo dall'alto e togliergli già una prima attacca di vita subito, poi per il resto dovete vedermela voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.